Tutte le previsioni astrologiche di Paolo Fox dell'oroscopo dall'11 al 17 marzo 2023 Tornano, come di consueto, le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox, pubblicate dal settimanale di Più TV, per la settimana dall'11 al 17 marzo 2023 Il Toro Domenica potrebbe avere incomprensioni con il partner, mentre i pesci ritroveranno la loro passionalità Ecco tutti i consigli delle stelle per i 12 segni zodiacali. Ariete dovrete approfittare degli ultimi giorni in cui Venere sarà nel vostro segno Se avete iniziato una storia sarà il caso di farla diventare qualcosa di più serio Le coppie che hanno un'attività in comune possono ricominciare a lavorare insieme Giove è ancora nel segno e non si esclude la possibilità di scelte importanti Via libera a nuovi progetti Il meglio arriverà durante la primavera Non perdete di vista una collaborazione Si può ripartire o portarla avanti Toro da Giovedì Venere si troverà nel vostro segno e diventeranno forti le nuove storie d'amore Una bella emozione può nascere tra giovedì e venerdì In coppia Le tensioni aumenteranno in quanto volete che il partner condivida i progetti che avete in mente Domenica a rischio per le incomprensioni In ambito lavorativo È tempo di fare progetti di rilievo Ma i soldi saranno un punto debole a causa delle spese per una casa o un progetto Gemelli Poi le persone che incontrate ora possono fare la differenza Ma restano molte ambiguità e non mancheranno i dubbi In coppia Alcuni problemi di lavoro porteranno sconforto e vi saranno ritardi e disagi Chi ha un'attività improprio dovrà risolvere un problema contrattuale Settimana produttiva da giovedì La scelta di nuovi soci sarà essenziale per andare avanti Cancro non sapete cosa fare o decidere in amore Ma non tiratevi indietro Fate attenzione giovedì e venerdì in quanto potrebbero esserci delle incomprensioni In coppia Le ultime settimane sono state pesanti Ma nella seconda parte di marzo ci saranno dei cambiamenti in positivo Nella professione Le stelle sono interessanti e da giovedì cambieranno diverse cose Le uniche perplessità riguarderanno i soldi e le spese maturate di recente Leone se una relazione non vi convince oppure sarà circondata da bugie Tra sabato e domenica alzerete gli scudi I cuori solitari saranno diffidenti e le conoscenze fatte ora Nonostante siano interessanti Non spingeranno ad osare In coppia nasceranno polemiche sabato Ma se i problemi riguarderanno denaro o lavoro Si arriverà ad un compromesso In ambito lavorativo È arrivato il momento di prendervi delle soddisfazioni Gli accordi vanno definiti in tempi brevi Vergine lunedì e martedì sarete accusati di distrazioni eccessive Il vostro atteggiamento ipercritico potrebbe procurare qualche problema Con pesci e gemelli potranno nascere complicazioni In coppia Se ci sono separazioni in atto Non mancheranno le discussioni Le coppie forti dovranno ragionare sulle acquisizioni da fare in vista del futuro A livello lavorativo Lunedì e martedì non discutete per motivi banali Oroscopo Paolo Fox settimanale dall'11 al 17 marzo 2023 Lo Scorpione discuterà con il partner per questioni di soldi Bilancia in amore La settimana comporterà qualche rallentamento o addirittura una piccola cautela Servirà prudenza Alcune coppie opteranno per una pausa di riflessione In caso di separazioni Meglio arrivare ad un accordo per evitare inutili spese aggiuntive Nella professione Si potrà iniziare a programmare il futuro in maniera diversa Scorpione non siate svogliati in amore Anche perché le giornate del fine settimana nasceranno con la luna nel segno Indizio di forza e di ritorno ad una bella sensualità Se siete single da tempo Dedicatevi ad amicizie amorose senza impegnare il futuro In coppia Alcune discussioni nasceranno per questioni di denaro Dovrete capire In ambito professionale Se volete rimanere dove siete oppure volete cambiare Molto dipenderà dalla retribuzione Sagittario venerà sarà ancora attiva Il vostro desiderio di vivere emozioni è forte E potreste iniziare nuove storie Ma anche divertirvi a frequentare più persone Dalla fine di febbraio avete voglia di vivere le storie con maggiore leggerezza Chi ha un'attività frenetica deve ritornare a pensare all'importanza dell'amore Dal punto di vista lavorativo Avreste bisogno di un periodo di sosta e riposo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti